Ciao, benvenuti a vedere il film Delta, sono molto felice di essere con voi al Busan Film Festival. Ciao, sono Michele Vannucci, sono il diretor del DELTA, il DELTA è la mia seconda feature, e sarà screta in la sectione flash-forward del Busan Film Festival, e sono molto felice di essere qui. Il DELTA è un western, è un western contemporaneo, dove due uomini facevano l'unico in un duelo, di avere il controllo della vita. DELTA è su due uomini che cercano di essere la vita migliorare, e vogliono vivere in pazza in loro comunità, ma non possono, e quindi hanno iniziato a avere una battaglia. E allungo questo rio, il main character, anche, troverà il dottore della sua soul, e troverà un nuovo sentimento di sua soul. E' qualcosa che succede a tutti noi, è trovare che siamo animali, che siamo non solo persone che vivono in società, e quando stai in un luogo, senti che sei una persona diversa, e è molto difficile di facevano la violenza in quella situazione. DELTA è un film action, un'altra forma di vedere l'italiano, è un nuovo immaginario. Il titolo del film è DELTA, perché è un nuovo luogo. non è un luogo di cui non vedo questo tipo di Italia. È molto diverso da quello che abbiamo visto prima. È un luogo nuovo. È un storio di un uomo che cercano di salvare in natura. È un storio di come trovare un'uomo in un luogo, dove nessuno può avere un'uomo in un'uomo in un'uomo. È un storio di raccogliere di miliardi, e un uomo. Questo è DELTA. Questo è il mio primo anno in Corea. Il mio primo anno al Buzon Film Festival. Sono davvero gratuito del festival per invitarmi, perché sono davvero orgoglioso di essere qui. Il Buzon Film Festival, per le persone europee, è proprio un sogno. Puoi venire qui, e mette persone molto fuori dal vostro culturale. È proprio come un porto, un posto dove puoi trovare l'uomo. E in questo momento, in questo momento, è molto importante per me sentirsi che siamo apprezzati l'uomo. Quindi possiamo parlare l'uomo, un linguaggio, un linguaggio cinematografico, e possiamo capire l'uomo con una storia. Mi fa sentire meglio, perché mi sento, ok, c'è un'esperienza. Il Buzon Film Festival, per me, è un'esperienza di parlare alle persone in diverse parti del mondo. E abbiamo bisogno di questo. Il Buzon Film Festival, Mi ricordo ancora la prima volta che ero al Buzon Film Festival. È molto lungo, e durante il programma, del Buzon Film Festival, c'è un film sorprendente. E questo film, non lo so, non lo so, in inglese, ma è un film Ferro Tre, L'Empty House, Kim Ki Do. e un film. E' una delle ragazze che ho fatto un film è quello che mi ha fatto. E' un film, mi ha inspirato, in modo che si puoi creare un nuovo immaginario e solo un' storia. Quindi, mi sono molto felice di essere qui in questo settore di Buzon Film Festival. Perché mi sento che qualcosa sta cambiando, sta succedendo. E poi, dopo che, ho visto molti filmici e mi piace questo tipo di cinema perché è libero. È uno dei più liberi in questa area del mondo. del mondo del mondo del mondo in Corea del Buzon Film Festival. In il Q&A molte persone avevano davvero emozioni, tratti, davvero dicendo che questo film è difficile. Penso che è pieno di emozioni e sensazioni. del mondo del mondo perché ha parlato del nostro medo. Il nostro medo è come face la violenza, come risolvere in un modo che viviamo un momento strano in cui si può dire che c'è una bomba nucleare o qualcosa che che di scrivere questo film per questo motivo e penso che questo film ha parlato di vivere in peace. Quindi sono molto felice di stare qui e di comprare questo film con korea e asia perché Busan è un perché cinema è wonderful in questa democrazia di parlare. Quindi grazie. e